Per svelare la maglia che sfoggerà nei palazzetti di tutta Italia ha scelto un grande magazzino del centro di Firenze. A poco più di una settimana dall'inizio della stagione, la Savione del Bene presenta squadra e staff che daranno l'assalto a campionato del Champions League. La finale è scudetto dello scorso anno, quando Scandici ha fatto tremare il dominio di Conegliano, dovrà essere il punto di partenza per nuove ambizioni. In panchina, a raccogliere la pesante eredità di Massimo Barbolini c'è il francese Stefano Antigà. Dopo diversi anni in Polonia, ha scelto di misurarsi con il campionato più bello del mondo, quello italiano. Ed è già entrato in sintonia con il gruppo. Si vede che hanno voglia di lavorare, di fare bene, di migliorare. Quindi abbiamo ambizioni alte e sappiamo che ci vuole un buon lavoro per arrivare a fare grandi cose questa stagione. Dopo l'oro Olimpico di Parigi, la star della squadra è inevitabilmente Keitan Troppo, va la più forte e attaccante dello scorso campionato. Insieme all'arrivo di diversi volti nuovi, Scandici ha confermato tasselli importanti come la centrale brasiliana Carol e l'esperta regista Ognenovic. Nel ruolo di capitana, l'attaccante belga Britt Herbots, che non nasconde l'ottimismo per la stagione alle porte. Bisogna crescere, bisogna conoscerci sempre meglio come squadra, anche con lo staff che è comunque un po' nuovo, con il nuovo allenatore. Dobbiamo conoscerci, dobbiamo lavorare, però vedo che comunque è una squadra con tanta anima, tanta voglia di far bene e ovviamente speriamo di vivere le stesse emozioni l'anno scorso.